Il problema dell'aumento dei pedaggi autostradali è tutt'altro che il risolto, tanto che gli oltre 100 amministratori di Abruzzo e Lazio impegnati in questa battaglia da tempo si sono ritrovati anche oggi nei caselli autostradali per fare volantinaggio e informare gli automobilisti della situazione. A supportare i sindaci all'Aquila, al casello di Tornimparti, anche le deputate Stefania Pezzopane del PD e Lucia Albano di Fratelli d'Italia, venuta dalle Marche a supportare la protesta. Dal 1 luglio, se il governo non prenderà provvedimenti, scatteranno i salassi che comprometterebbero la situazione delle aree interne, per cui questa infrastruttura è fondamentale. I sindaci denunciano che dal governo ad oggi non sono state date delle risposte, il PEF e il piano economico-finanziario non è stato approvato, per ora Stada dei Parchi ha bloccato gli aumenti, che però sono sempre più vicini se non si metterà mano seriamente alla questione. L'approvazione del PEF inoltre darebbe il via di una manovra economica importante per ammodernare e mettere in sicurezza le autostrade. Siamo ancora qui con più di 100 sindaci del territorio che hanno sollevato il problema, ma portandolo all'attenzione anche del Parlamento. Cominciamo ad avere anche attenzione mediatica importante. È fondamentale che il governo si faccia carico di gestire definitivamente la questione della gestione di una infrastruttura che soprattutto per l'abruzzo interno, l'abruzzo appenninico, è di vitale importanza. Un aumento sarebbe da scongiurare e è da scongiurare a tutti i costi. Non siamo qui a fare battaglie ideologiche, ma riteniamo talmente importante questa infrastruttura per le aree che qualunque sia l'interesse di parlamentari e di strutture sovracomunali o sovraterritoriali è ben accetto.